Giornata di semifinali del singolare maschile finalissima nel doppio al Super Torneo ATP Challenger Tour al Roseto degli Abruzzi. Competizione di altissimo livello che ha tirato nel comune costiero numerosi campioni da tutta Europa. In semifinali ricordiamo e approdato il ventenne talento azzurro numero 170 del mondo Flavio Cobolli, che ieri ha superato e rimonta il Kazako Skatov 4-6, 6-2, 6-4. Da applausi la prova del Romano capace di rimettersi in carreggiata dopo aver perso il primo set. Sostenuto dal calore e dall'entusiasmo del pubblico, Cobolli ha recuperato nella seconda frazione di gioco sfoderando tutti i colpi del suo repertorio e chiudendo il match al terzo set in due ore e venti minuti. Sì, abbiamo due semifinali e una finale di doppio straordinari, con un italiano in corsa che è questo giovane ragazzo romano Flavio Cobolli che è la speranza di tutti noi che possa raggiungere i ragazzi che già sono top 100 azzurri. Quindi è uno spettacolo incredibile, una giornata molto bella e ci auguriamo grandi match e tanto pubblico. Presidente, un grande successo questo torneo a Roseto, oggi le semifinali, poi già si pensa alla finalissima di domani. Sì, diciamo che oggi pure il stembo ci assiscia, aspettiamo il grosso pianone e ci prepariamo per questi due giorni. Poi vi ricordo che la prossima settimana inizia il secondo Challenger e di cui sono arrivati giocatori fortissimi. È arrivato finalmente Wesley che ha battuto Djokovic a Dubai, c'è Mager, ci sono anche altri giocatori top 100, quindi la prossima settimana sarà ancora più spettacolare. Una grandissima occasione questa per gli atleti, fare due tornei, uno dietro l'altro in un periodo che a livello europeo non ci sono. Sì, esatto, soprattutto per gli europei, questi giocatori europei hanno un'occasione d'ora perché con sto back to back i giocatori pur se vengono eliminati possono rimanere un'altra settimana e quindi approfittare per fare un altro challenge stando in zona. Una cosa importante è la presenza anche delle scuole. Sì, devo ringraziare soprattutto l'istituto commerciale di Rosario che mi ha messo a disposizione vendi ragazzi che abbiamo usato per fare i ball boys e vendi hostess per la lingua, quindi sono stati bravissimi. E poi voglio ringraziare tutte le scuole della provincia di Teramo perché grazie alle iniziative che abbiamo fatto verso di loro che gli diamo l'ingresso gratuito stanno aderendo numerosi. Sul rete 8 Sport, canale 11, domenica 13 e domenica 20 marzo alle ore 14.30 verrà trasmessa la diretta delle finali di tennis, finestra in diretta calcio integrale sul canale 112, rete 8 News.